Tu mi hai il consiglio, le ti metti in bocca! No, davvero! 3, 2, 1, GO! Buongiorno ragazze, ragazze, ci stiamo ritornando, si? Siamo in un buonissimo video, oggi è il mio subito, c'è un video... dove vi faremo vedere... X, 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 X contro S Siamo così, S Comunque... Cioè, c'è che si... Piccolo e grandissimo! Oh! Allora, io vorrei far vedere queste fantastiche patatine che c'è, sono buonissime! Sono anche belle grandi, raga, eh, direi! Aspetta, vediamo per il controllo! Guardate! Vediamo per il controllo con la bustola, dai! Giura, che caccio? No, ma questa è troppo grande, capito? È troppo grande! È grandissima, troppo! Guardate! Guardate, pure le patatine sono enormi! Troppo! Giura, tu, io ce l'ho appena di più grande! Raga! Vai, mettiamola al confronto! Guardate! Guardate! Vediamo! Penso! Ho vinto! Io penso che ce l'abbiamo di più grande! Mettete sul tavolo! Giura piano! Mettete sul tavolo! Mettete sul tavolo! Orizzontale! Facciamo vedere! Nadia, mettete l'altra vicina! Mettete l'altra vicina! Mettete! No, misuriamola! No! Va bene, dai! Sino dà la differenza! Apriamo, apriamo, apriamo! Assaggiamo pure queste! Quelle sono buonissime! Che buonissime! Che puzza! Proprio cipolla! Raga! Gostate una cipolla! No! L'Ale! Avete? L'Ale presenta le cipolle in Calabria? Quelle! Sente! Quell'odore! Mamma mia! Non è niente! Infatti c'è scritto! Non è niente! Non è niente! Buona! Buona! Allora! Mettete a confronto! Bene! Ok! Perfetto, guys! Io mi prendo questa! NAM NAM! Guarda! E' buona! La vediamo ancora! Vediamo un po' nel piatto! Vediamo un po' Ciro! Vediamo un po' nel piatto! Occhi giusti! Vediamo un po' se riesce a indovinare quale delle due sono! Dico io! Allora! Margheri gli occhi giusti! Dagliene una! Vediamo un po' se indovina! L'hai raggiunti gli occhi eh! Apri bene la bocca! Prendiamo così almeno! No dai! Eh! Un pezzettino proprio forte! Degliela voglia di andare intera! Quali sono? Quella cipolla! Grande si nota! Vediamo a Giulia invece Margher! Che ci resta! Che gli dà? Che gli dà? Che ti dà? Chi vuole persa il piatto è lo piatto! Eh! Che lo sbaglia mai! Allora! Andiamo Migliali con il prossimo XXL end! E te la lato? C reminds me! Non pensare alla ultima! Grazie! Dai fuerza! Guarda! La parola.. vi volevo far vedere un altro, un altro, un altro, un altro, un impiasto questi pop corn che sono buonissimi raga cioè sono anche belli grandi direi no Giulia ma questi sono più grandi no ma questi sono enormi dove li troviate? però posso dire la verità questa volta non c'è niente più grande cioè allora vi dico che sono quasi piccole non mai piccola ma non c'è piccola 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 è molto più grande ma questa è piccola ma perché ti sorprendi? ma non mi avevi detto che era piccola ma scusa che cosa è più grande mettiamo il confronto ora li abbiamo raga quelli orizzontali orizzontali non tiriamoli tutta la nuova e un battitolo non tiriamo è decisamente ma questi sono già troppi grandi di quelli precedenti però questi inoltre sono al caramello giusto? raga vi devo usare purtroppo oddio voglio assaggiarli quelli al caramello dalle sei pronta per il nostro? vai e metti? raga questi sono al caramello puro sono fuori dai dai allora vediamo un po' è fortuna che al cinema non li abbiamo mai comprati ahahah perché? perché? non so ti posso mettere di mezzo no Margaret ci sta trasformando Margaret che succede? non si possono mangiare non li ho assaggiati? allora vediamo un po' mamma occhi chiusi vediamo un po' che schifo andai però gli occhi chiusi sei proprio vivo avanti sono lite che caramello poi un pochino apri bene la bocca avanti pronta eh? intanto apri ahah ma immagina Giuliana che forza ma è stata terra boiare nuocchino non so lo raccogli Sì, certo. No, ora! Dai, non possiamo mangiare! Non vi calciano quindi? No! Giulia, andate a buttare a terra! Non mi calma! No, a parte è beccato, il cibo non si spreca così! No, non mi calma! Dai, allora, diciamo che questa busta che fine farà? Mi dispiace per te bustina! Ma non ci rivedrai più! Guarda, Giulia! Giulia! Giulia, dobbiamo cambiare! Mangi! Calma, calma, calma! Giulia, quando vedi il cibo devi stare calma! 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 E ti va dentro un po' più calma, Giulia, dai! Non è che... Allora, finito? Io ho finito, cioè... Allora, piano piano, vediamo un po', vediamo un po'. Allora, se tu mi superi... Che cosa sei? Ti la fai vedere, grazie? Fammi vedere che cos'è? Che sono palline? Vabbè, però... Comunque... Sono palline, che sono? Sì, comunque è grande! C'è qualcosa tu, Margher? Una cosa piccolina, ma tutta la bustina, se niente di che! Però... Che... Va andare bene! Facciamole in casa, Pam! Fammi vedere! E' certo, Pam! Mettiamole vicino, confrontiamo un attimo, confrontiamo! Aha! Mettiamo l'orizzontale, come facciamo sempre! E' decisamente gigante rispetto a piccolo! Un'altra busta! Giulia, non fai rimare! Calma! 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 Bleh! Non ho capito! Non ho capito! Non ho capito! Che devo fare? Ah! Non ho capito! Bleh! Raga! Sono di formaggio proprio... Allora dobbiamo fare la prova, la prova con gli occhi! Vediamo un po' se ricerca... No! 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 Inizia tu! Inizia tu! Giulia, no! Canti no! 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 Occhi chiusi! Wow! Che scoperte... Quali sono? Che cos'è? che cos'è, che cos'è, chiudi gli occhi, che può fare quella? Ma non c'è il bocca prima che si trova che dobbiamo andare in giro dopo, ma che copina ma si sto comando in bucana, ma non si è più lenta, vai Margie vai, chiudi gli occhi, occhi chiusi, vai Margie una, Margie dai una sola, veloce no io non devo pensare apri la bocca visto? visto? mi hai buttato il tuo in bocca? la mangia amore ti apri la bocca? apri apri Giulia e dai ma vedi che cos'è? ma vedi che senso ha? chiudi che occhi apri tu mi hai buttato il mio netto in bocca no davvero apri e guarda ti non mangi questa è comunque la taglia di salad massica non si parla con il bocca in bocca ma non posso voglio essere quindi non ci sono molti grandi va bene abbiamo finito c'è altro no quindi questo era il video spero sia piaciuto hanno piaciuto tantissimo vi ricordo di iscrivervi all'instagram margheguliacavoy su facebook margheguliacavoy su secondo lei margheguliacavoy sul suo canale marghelle sul nostro canale margheguliacavoy su stick tock margheguliacavoy e niente già l'ho detto e niente noi vi mandiamo un bacio a noi mua e ci vediamo al prossimo video ciao margheguliacavoy su questo divano con il coltello e le bacchette in mano fai bravo fai bravo siamo io